E' piena corsa verso il prossimo appuntamento di campionato, prima settimana di controllo di gestione per lo staff tecnico in casa Sidiga Savellino che, detto addio sette giorni fa al Basketball Champions League, si concentra sulle tappe fondamentali per il miglior posizionamento in chiave play-off scudetto. La gara con Reggio Emilia, il blitz al Palabigi, firmato all'ultimo secondo dell'overtime, ha rigenerato l'ambiente irpino, offrendo ore di ricarica fisica con operazioni finalizzate alla rivincita con la Dinamo Sassari. Sabato alle 20.30 sarà anticipo al Pala del Mauro contro il Banco di Sardegna. I due team si ritroveranno dopo il match dei quarti di finale di Coppa Italia, in cui uscì vincente il team di Pasquini, finalista dell'evento di Rimini Fiera e ancora nei giochi di Champions. Coach Sacripanti dovrà valutare di giorno in giorno la condizione fisica di diversi elementi. Green e Leunen sono apparsi poco brillanti nell'ultimo periodo e lo staff tecnico Bianco Viete dovrà gestire i continui problemi alla spalla sinistra che turbano Joe Ragland dall'ultima gara di regular season in Champions e la condizione precaria di Chirillo Fesenco, chiamato nell'ultimo mese agli straordinari per l'assenza di Marco Cusin, lanciato verso il rientro. Sponda Juve Caserta si riparte da coach Sandro dell'Agnello, confermato dalla proprietà bianconiera dopo colloqui serrati anche con gli stessi giocatori. Domenica alle 18.15 la pasta reggia sarà di scena a Capodorlando contro una Betaland da sogno al quarto posto e autentica rivelazione del torneo. Grazie. Grazie.